Ciao a tutti! Oggi voglio parlarvi di una delle attività più rilassanti e appaganti, la pesca. Pesca non è solo un modo per catturare pesci, ma anche un'opportunità per godersi la natura e trovare un po' di pace. Immaginate di trovarvi vicino a un lago tranquillo, con il suono dell'acqua che scorre e il cinguettio degli uccelli. Lanciare la lenza e aspettare con pazienza, mentre il sole splende e l'aria fresca vi circonda. La pesca è un momento perfetto per riflettere e rilassarsi. Che siate principianti o pescatori esperti, la pesca offre sempre nuove sfide e avventure. Potete imparare diverse tecniche, scoprire nuovi luoghi e, con un po' di fortuna, portare a casa un bel trofeo. Quindi, la prossima volta che avete bisogno di una pausa dalla frenesia quotidiana, prendete la vostra canna da pesca e andate a pescare. Vi assicuro che tornerete a casa con lo spirito rinnovato e un grande sorriso. Grazie per avermi ascoltato e buona pesca a tutti!